Da avvocato e attivista per i diritti umani ad una vera nuotatrice per passione. Si tratta di Eva Buzzo, 36enne australiana, che ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida, ossia attraversare a nuoto il canale d'Otranto dalla città salentina alla spiaggia di Valona in Albania. Il tutto avrà inizio nella giornata di giovedì a partire dalle 7. Eva partirà dalla punta nord del porto di Otranto e durante la traversata sarà accompagnata da due battelli di assistenza e da un'imbarcazione di 12 metri. Il coordinamento tecnico e logistico sarà curato dal comandante Piro Scappidi, mentre l'arrivo a Valona è previsto dopo circa 30-40 ore. Ho deciso di farlo perché la mia famiglia è di origine albanese e quindi volevo onorare le loro origini e fare questa impresa. E lì, da attendermi, ci saranno tutti loro insieme a tutte quelle persone che si staranno godendo il mare di Valona. Grazie. 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 Grazie.